Prima presenza da titolare quest'anno, tanti avevano detto voglio vedere giocare Samarzic, Samarzic ha giocato, Samarzic ha segnato, quanto sei felice? Molto, abbiamo vinto, ha segnato questa stasera, è molto buona. Senti ma lo percepivi, te la sentivi che oggi avresti giocato titolare o è stata una sorpresa? Ieri abbiamo visto, è un po' un momento bello. Senti, tre vittorie consecutive, avete vinto contro il Monza, avete vinto contro la Fiorentina e oggi con la Roma. Nove punti in tre partite, siete secondi praticamente soltanto dietro alle primissime della classe che sono in coppia, là davanti il Milan e il Napoli, poi ci siete voi, te lo aspettavi? No, questa settimana è perfetta, lavoriamo molto duro e questo è importante, vogliono di più e di più.